Questa è la nostra valle dei nuraghi, intorno a questa fertile pianura abbiamo circa 18 nuraghi e diversi villaggi nuragici. Alle mie spalle c'è il nuraghe de Porto, nella parte alta della collina, con un bel villaggio intorno, mentre nella parte bassa, su Kuzu e Azaila, c'era il vecchio porto nuragico. Abbiamo un allineamento di tre nuraghi, quello di nuraghe Porto, Nerelie e Murie, che allineati quando le navi dovevano rientrare in porto, venivano accesi dei fuochi sopra i nuraghi e funzionavano come dei fari. E quindi le navi potevano tranquillamente tornare in porto.